E' arrivato il momento di combattere Da quello che hai combinato sei un tipo in gamba, ma non straordinario Concorrenti pronti a cominciare Che l'incontro è inizio Vieni qui Questa te la faccio pagare Non l'hai sentito? A noi due Soberlampo, via! Eso basta Vieni qui Vieni qui Vieni qui Figuraccia con la mia ragazze! A noi due Soberlampo, via! Vieni qui Vieni qui Ah, adesso basta Ci penso io a quello Eccomi Che penso io Preparo Spontati Vieni qui Ma come Svegliati male Ehi Big Bang STO ARRIVANDO! Adesso tocca a me! BASTA! 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 AIA! 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 Questo è s... Nel incresce, non devo scappare. È il momento della vend- Prego! Sono qui. AIA! 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 Dè la tua ultima preghieta. AIA! 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 Allora vedrai! Cacinet,èn, Beansman! No! No- Can we death? Dio- Er mới- Sono Io sono un combatante Prendi Vedrai che presto la paura Prendi Sto arrivando Oh stronzo Siete spacciati Il Il Sono Il 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 che abbastanza Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.